Ciao a tutti, rifiuta chi ti rifiuta e ti amerà. Allora, dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale. Le persone che tendono a rifiutare gli altri, in questo caso che rifiutano te, lo fanno essenzialmente per un motivo, che hanno vissuto in modo passivo a suo tempo il complesso del rifiuto, cioè sono stati rifiutati dai genitori fondamentalmente in una fase infantile. E questi genitori hanno rappresentato delle persone significative per loro. Quindi, da adulti, come meccanismo di difesa, tendono a utilizzare il rifiuto in modo attivo, cioè tendono a rifiutare gli altri oltremodo. Quindi sono persone altamente rifiutanti, altamente evitanti. E allora, un modo molto utile, molto rapido per sedurli, per farci amare, per dargli delle emozioni e quindi farci amare, è quello di rifiutarli. Rifiutarli ancora di più di quanto loro rifiutano te. Ora dici, ma come faccio a rifiutare uno che mi rifiuta? Beh, intanto, prima devo avere capito che una persona che ha questa caratteristica di rifiutare, provando magari in piccole cose, vedo che mi rifiuta, quindi faccio dei piccoli test. Una volta che ho capito che una persona è rifiutante, gli darò un rifiuto secco. No, no, guarda, tu sei proprio la persona sbagliata per me, la persona peggiore, non ho proprio voglia di vederti più. Levati dai piedi. Vado su rifiuti secchi, decisi. E in questo modo otterrò esattamente il contrario, che questa persona mi cercherà. In questo modo potrò trasformare il rifiuto in essere cercato o essere cercato. Ma devo avere la forza di farlo. Devo avere la forza di rifiutare con decisione. E otterrò un coinvolgimento. E otterrò tra l'altro una cosa strana, che questa persona continuerà a rifiutare tutti gli altri, ma smetterà di rifiutare me. Perché io ho svelato, alla sua parte emotiva, gli ho tolto la maschera, ho svelato l'arcano, ho svelato il mistero, e quindi non riuscirà più a rifiutare me. Tutti gli altri sì, li rifiuterà, io non verrò più rifiutato. Quindi è importante, è molto importante, che voi facciate però degli atti di coraggio, perché so che può essere difficile rifiutare una persona a cui tieni, può essere difficile rifiutare una persona che desideri, ma se lo farai, riuscirai inesorabilmente, inevitabilmente a conquistarla. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!